Negozi e aziende, migliaia di ispezioni della Guardia di Finanza, centinaia le denunce nel giorno della festa per i 249 anni del corpo. Il comando provinciale di Lucca ha diramato i dati delle operazioni dell'ultimo anno. Controlli a tappeto della Polizia Provinciale, il bilancio in occasione della presentazione dei due nuovi veicoli in dotazione al Corpo di Polizia della provincia di Lucca, che sta dedicando particolare attenzione alla vigilanza sulle strade. Gesam si concentra sul futuro sostenibile, presentato il bilancio di sostenibilità della partecipata del Comune di Lucca, non solo numeri ma attenzione anche alla sostenibilità ambientale. Giorgio Gorgone, nuovo allenatore lucchese, sceglie esperto di giovani. L'ex centrocampista rosso-nero a Lucca nel 97-98 è il nuovo tecnico. Con lui, dalla primavera del Frosinone, anche il DS Frara. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale dedicata alle notizie di Lucca, Piana e Garfagnana. Ebbene, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, le celebrazioni in occasione dei 249 anni della Guardia di Finanza. La festa è stata l'occasione anche per fare un bilancio delle attività sul territorio provinciale. Accolte dal colonnello Marco Querqui, comandante provinciale della Guardia di Finanza, le massime autorità istituzionali hanno partecipato alle celebrazioni per il 249esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Una festa che è stata anche l'occasione per il bilancio delle attività delle fiamme gianne in provincia di Lucca. L'azione dei finanziari ha visto nell'ultimo anno oltre 4.000 interventi e 320 deleghe di indagine pervenute dalle magistrature. Eseguite più di 3.000 ispezioni che hanno consentito di segnalare all'Agenzia delle Entrate 60 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione, 16 milioni di IVA e VASA. Denunciate 112 persone per reati fiscali. Intensa anche l'attività del contrasto all'economia sommersa come testimonia all'individuazione di 51 evasori totali. verbalizzati 21 datori di lavori per aver impiegato lavoratori in nero. Per gli scontrini sono state elevate contestazioni nei confronti di 281 negozianti su 2.700 controlli. Ispezioni anche alle pompe di benzina dove la finanza ha rilevato che il 10% dei distributori controllati non erano in regola. Tantissime le verifiche, le sanzioni e imprese fantasma. Aziende che non avrebbero avuto diritto ai contributi per il Covid. Soggetti che hanno monetizzato crediti di imposta non spettanti derivanti dai super bonus. Molti anche gli interventi per la tutela del distretto turistico, il contrasto al fenomeno degli affitti in nero e in Versilia e alle verifiche nelle sale da gioco e sale scommesse. La Guardia di Finanza ha dedicato 10 piani operativi al contrasto agli illeciti in materia di spesa della pubblica amministrazione. I controlli in materia di reddito di cittadinanza svolti con l'Inps hanno portato alla denuncia di 36 persone. La strategia perseguita dalla Guardia di Finanza mira infine al contrasto di ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata a partire dal commercio di beni contraffatti fino allo spaccio di droga. La Guardia di Finanza opera ogni giorno per sostenere l'economia ma soprattutto per sostenere le fasce più deboli della popolazione. Il nostro impegno è quello di far sì che gli aiuti finanziari che sono previsti dall'autorità governative giungono effettivamente a destinazione per poter contribuire alla tenuta produttiva e occupazionale ma soprattutto per sostenere chi ne ha più bisogno. L'obiettivo è quello di prevenire e reprimere laddove è necessario tutte quelle condotte illecito a danno della collettività e dei cittadini della provincia di Lucca. I gnoti nella notte hanno fatto saltare in aria il bancomat della posta di Sant'Alessio. Fortissimo il boato provocato dall'esplosione della miscela di gas e acetilene che i malviventi hanno poi innescato a distanza. L'attentato ha svegliato gli abitanti delle case vicine che si sono riversati subito in strada. Probabilmente per questo motivo i banditi sono stati costretti a fuggire senza poter prelevare il denaro contenuto nella cassa continua. I rilievi dell'accaduto sono stati effettuati dalla polizia scientifica. Nuovi mezzi per la polizia provinciale. L'inaugurazione delle vetture è stata occasione anche per fare un bilancio dell'attività svolta sulle strade della provincia. Cinque mesi di intensa attività quelli appena trascorsi per la polizia provinciale di Lucca che ha messo in atto 62 posti di blocco sulle strade provinciali, controllato 465 veicoli ed elevato 269 sanzioni. Il bilancio in occasione della presentazione di due nuovi mezzi in dotazione al corpo di polizia. La polizia provinciale è sempre più attenta a un lavoro di prevenzione, a partire dalle strade provinciali, alla questione appunto della sicurezza, della velocità sulle strade, che è una delle questioni che più i cittadini ci sollecitano, e una presenza appunto capillare su tutto il territorio, a partire appunto dalle zone delle cosiddette aree interne, dalla Media Valle, la Garfagnana, ma anche la Piana e chiaramente la Versilia. Tra i reati più riscontrati dagli agenti della provinciale, la mancata revisione periodica, con 60 sanzioni elevate negli ultimi mesi, 38 multe invece per violazione delle norme di comportamento, come cinture non allacciate, cellulare alla guida, sorpassi azzardati. 15 automobilisti invece sono stati trovati senza la copertura dell'assicurazione RCA obbligatoria. In totale, in questi primi 5 mesi dell'anno, sono stati decurtati 210 punti patente agli automobilisti trovati in difetto rispetto alle normative dettate dal codice della strada. I controlli, non soltanto sui conducenti, ma anche sui veicoli, comportano una sicurezza stradale, perché andiamo a colpire e a cercare di togliere dalla strada veicoli non sicuri, veicoli non assicurati, non revisionati, persone che reiterano condotte pericolose. Gesam presenta il bilancio di sostenibilità. Per rendere noti i risultati di gestione, ma anche ridisegnare le prospettive future per cittadini e aziende del territorio, Gesam Reti ha presentato il bilancio di sostenibilità 2022. La società per azioni già municipalizzata Gesam è nata nel 1973. Si occupa della gestione, progettazione e manutenzione delle reti di distribuzione del gas. È una delle principali realtà aziendali in ambito provinciale, con un fatturato di circa 15 milioni di euro. Il bilancio di sostenibilità 2022 è stato redatto secondo gli standard del Global Reporting Initiative, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università di Pisa. Il documento presenta una dettagliata mappatura degli stakeholder, l'analisi di materialità e approfondisce tematiche che vanno dalla sostenibilità economica a quella ambientale, come il consumo di acqua, il livello di emissioni di CO2, la gestione dei rifiuti. Il bilancio affronta inoltre con chiarezza temi di impatto e interesse sociale, come l'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Per noi è sempre stato prioritario valorizzare le partecipate, ha spiegato il sindaco Mario Pardini. In Gesam Reti l'impegno importante del presidente Agnitti ha fatto trovare alla società anche uno spazio nella gestione delle rinnovabili dove si gioca la partita energetica del futuro. Col bilancio di sostenibilità che presento stamattina intendiamo confrontarci con gli stakeholder del territorio, le associazioni, i cittadini, le imprese, perché pensiamo che nelle energie rinnovabili prodotte anche in loco ci sia il futuro. Riteniamo che vada creato valore condiviso nel territorio, riteniamo che l'economia circolare sia quella verso la quale dobbiamo andare. I 50 anni di Gesam Reti penso che costituiranno anche un momento importante per confrontarci su questi temi e per rendere l'energia un tema importante e al centro del dibattito cittadino. Tutela della biodiversità, l'amministrazione ha presentato il nuovo progetto per gli spalti delle mura. Non più corridoi ecologici, ma mura della biodiversità. Questo è il nome del progetto per valorizzare e incrementare la biodiversità sugli spalti delle mura, presentato in commissione lavori pubblici dall'attuale amministrazione. La sperimentazione alternativa alle soluzioni adottate dalla precedente giunta per il momento si limiterà al tratto tra Porta Elisa e Porta San Jacopo e si avvarrà di una società di consulenza esterna incaricata tra l'altro di restituire i risultati delle azioni messe in campo. È un progetto che parte innanzitutto da un censimento per la raccolta di certi dati che poi andranno messi nero su bianco e vedrà anche la collaborazione degli alunni delle scuole oltre che dei cittadini perché avrà uno scopo fortemente didattico. Una scelta in discontinuità che, secondo l'attuale amministrazione, punta a coinvolgere i cittadini in un percorso formativo sul tema della biodiversità per arrivare a una gestione standardizzata e programmata delle azioni volte al suo incremento. Che cos'è questa biodiversità? I cittadini in passato si sono ritrovati, si sono ritrovati questi ex corridoi ecologici senza sapere perché venivano fatti. In molti, a noi, quando eravamo sui banchi dell'opposizione, ci venivano a criticare uno sfalcio degli spalti sulle mura. Sembrava quasi un disinteressarsi di quello che è un parco urbano perché ricordo che le mura sono un parco urbano monumentale. I cittadini a noi ci chiedono che sia trattato bene e che soprattutto sia decoroso. Non è detto che in futuro questo primo percorso possa anche allungarsi e allargarsi, però avverrà solo attraverso una condivisione con i cittadini. E a questo proposito arrivano già le critiche dei consiglieri di opposizione. Questo tratto fuori da Porta Elisa spiega benissimo come l'amministrazione comunale ha inteso azzerare il progetto dei corridoi ecologici. Vediamo la vegetazione tagliata, vediamo gli animali e i pesci morti. Ci chiediamo come mai un progetto che aveva raccolto così tanto consenso, era stato così apprezzato anche dalla comunità europea, aveva portato turisti nella nostra città, sia stato così poi manomesso da questa amministrazione che oggi ne presenta in maniera maldestra un'altra. E ci chiediamo, è stato solo un dispetto perché il progetto era nato dalla precedente amministrazione? È chiaro che questa amministrazione comunale ha sentito il bisogno di fare una specie di dispetto a chi c'era prima, per tante cose si giustificano dicendo che è solo un anno e quindi non hanno fatto in tempo a cambiare questo, a cambiare quest'altro, la verità è che quando vogliono produrre qualche risultato come questo, lo producono solo che in questo caso è un risultato estremamente negativo e dannoso per l'ambiente. Dopo i ripetuti attacchi degli ultimi giorni, il sindaco di Lucca Mario Pardini è intervenuto a sossegno dell'assessore Giovanni Minniti. Dover puntualizzare cose ovvie non è mai bello, ha scritto Pardini in una lettera aperta, ma visti i ripetuti ed insensati attacchi ai danni di Giovanni Minniti, voglio ribadire la massima stima e fiducia nei confronti del mio vice sindaco. Giovanni sta facendo un lavoro eccellente da tutti i punti di vista, nel sociale che arrivava da uno scenario di criticità diffuse, come nella sicurezza, dando una linea politica chiara da parte dell'amministrazione comunale. D'altronde, ha concluso Pardini, l'autorevolezza delle critiche si pesa e definisce dallo spessore e dalla coerenza dei soggetti che le muovono. Ci occupiamo adesso di sport in città. L'assessore Barsanti ha presentato due importanti iniziative. Al via la ricognizione su 18 campi sportivi comunali e riapertura della piscina del palazzetto entro il prossimo ottobre. L'amministrazione comunale ha approvato i documenti preliminari per le due iniziative che avranno un impatto notevole sul futuro sportivo della città. Da un lato, in attesa della costruzione del nuovo impianto natatorio previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, verrà pubblicato un bando di gara per l'affidamento temporaneo della gestione della piscina del palazeport. Il soggetto individuato dovrà garantire per i prossimi tre anni la funzionalità e la fruizione della struttura, chiusa dal 2020. L'altra delibera riguarda invece la verifica delle condizioni su tutti i 18 campi sportivi comunali, sia per quanto concerne l'impiantistica che il rispetto delle concessioni, in coerenza con le norme e i regolamenti vigenti. Ed è una cosa che abbiamo deciso di fare proprio di concetto con quelle che sono le società più serie che fanno calcio. Secondo una linea e una visione che vuole premiare le società serie che hanno le scuole calcio, che fanno appunto anche un'opera spesso sociale, premiare anche quelle società piccole, amatoriali o di categorie inferiori che rispettano le concessioni e che quindi fondamentalmente hanno un rapporto profilo col comune. E vogliamo invece fondamentalmente poi tagliare le persone poco serie che non rispettano tutto quello che invece gli altri rispettano. Il fine è quello di acquisire un quadro conoscitivo che consenta all'amministrazione comunale di meglio programmare interventi di manutenzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione alla luce sia delle mutate esigenze del mondo sportivo sia dell'evoluzione della pianificazione urbanistica. Quindi per la prima volta l'amministrazione vuole fare degli interventi negli impianti sportivi assieme alle associazioni e quindi vuole programmarli in virtù di un quadro conoscitivo che sia il più possibile appunto chiaro. Andiamo a Porcari, Simone Giannini, ex presidente del Consiglio Comunale entra in giunta con incarico per l'urbanistica e l'ambiente. Simone Giannini è il nuovo assessore della giunta comunale di Porcari. La nomina è stata ufficializzata dal sindaco Leonardo Fornaciari che ridisegna così il suo esecutivo dopo l'uscita di Franco Fanucchi che la scorsa settimana era approdato ad Aquapur. Giannini lascia il ruolo di presidente del Consiglio Comunale per assumere le deleghe all'ambiente e alla pianificazione urbanistica ambiti di competenza che andranno a sommarsi a quelli già affidati dal sindaco a Giannini ovvero la digitalizzazione, la modernizzazione, il decoro urbano e il territorio del Padule. Il sindaco assegna a Giannini la delega alla pianificazione urbanistica ma mantiene per sé delicate deleghe appartenute fino a pochi giorni fa a Franco Fanucchi come protezione civile, lavori pubblici, sicurezza, idrogeologica ed edilizia scolastica. Stamattina il sindaco mi ha appena assegnato le deleghe all'ambiente e all'urbanistica ovviamente sono soddisfatto di questa cosa. Sono due deleghe importanti per le quali ci sono sfide importanti da portare avanti come l'aggiornamento e la revisione degli strumenti urbanistici, per l'ambiente c'è tutta la partita aperta della qualità dell'aria non solo di Porcari ma di tutta la piana. Insomma sarà un impegno che mi vedrà impegnato ed operato probabilmente per i prossimi mesi e i prossimi anni dell'amministrazione però sono abbastanza soddisfatto e orgoglioso accetto la sfida e quindi parte per me una nuova avventura, sono soddisfatto. Il Museo Multimediale di Barga si arricchisce grazie ad una donazione di Fabrizio Riva. Sentiamo Luca Galeotti. È più ricco adesso il Museo Multimediale di Barga dedicato alle rocche e fortificazioni della Valle del Serchio grazie alla donazione di Fabrizio Riva di Gallicano appassionato di storia locale e proprietario dell'antica rocca recentemente riportata agli antichi splendori. Con una bella cerimonia che ha visto la partecipazione della sindaca di Barga Caterina Campani di Silvia Lucchesi rappresentanza del comune di Gallicano e naturalmente della curatrice Lucia Morelli Riva ha donato un nuovo importante documento visivo che testimonia la presenza della rocca di Gallicano alla fine del Quattrocento. Si tratta di una riproduzione della tarsia linea di Cristoforo Canozzi dall'Indinara realizzata tra il 1484 e il 1488 su commissione del mecenate Domenico Bertini. L'opera donata, eseguita per le ante di un armadio della Sacrestia del Vescovo, è conservata in originale a Lucca al Museo Nazionale di Villa Guinici. Quindi si tratta di una donazione importante che restituisce un pezzo di storia al territorio e che rende ancora di più il museo un luogo di interscambio, un bene per la comunità. Oltre al valore storico, il MURF assume un importante ruolo culturale e pedagogico mettendo a disposizione dei visitatori anche dei contenuti multimediali realizzati dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. Giorgio Gorgone, il nuovo allenatore della Lucchese. La Lucchese ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Giorgio Gorgone, attuale tecnico della Primavera del Frosinone, ex giocatore rosso-nero nella stagione 98-99. Il nuovo direttore sportivo sarà invece Alessandro Frara, attuale responsabile della Primavera del Frosinone. Gorgone è nato a Roma nel 1976. Prima di diventare allenatore della Primavera, con la quale due stagioni fa ha conquistato la promozione nel campionato di Primavera 1, ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda a Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli, Arezzo. Frara, nato a Torino nell'82, si è diplomato direttore sportivo nel 2018. Entrambi saranno presentati ufficialmente la prossima settimana. Il DS Daniele De Homa e l'allenatore Ivan Maraia, entrambe con un contratto anche per la prossima stagione, per ora rimangono al libro paga della Lucchese. Giorgio Corgoni è un eccellente tecnico, a mio avviso. Lui quest'anno, la scorsa stagione, noi vincemmo i play-off del campionato Primavera, ma vincemmo a Brescia, a Cremona, battemmo in casa il Parma, siamo andati in Primavera 1, senza neanche un rinforzo che sia 1. Lui, finché ha avuto la squadra in efficienza, era prima in classifica con 4 punti sulla seconda. Noi abbiamo, la Primavera di quest'anno, targata Corgoni, ha ottenuto dei risultati altrettanto stratosferici dalla prima squadra. Ci fermiamo qua con questa edizione del nostro telegiornale. La linea adesso va ai colleghi della redazione di Viareggio e della Versilia.